Il momento di dedicarci ai nostri ospiti, anche al nostro pubblico, abbiamo i corridori, abbiamo i ciclisti dell'AutoZai Country Omap. Ragazzi, fatevi un bel applauso e grazie di aver accettato il vostro invito, accompagnati dal vostro neopresidente, perché Enrico Mantovanelli da poco più di un mese è presidente di questa prestigiosa società ciclistica. Complimenti intanto, come si vivono questi primi momenti dalla presidenza? Sono momenti di grandissimo entusiasmo, perché comunque il riconoscimento che ho avuto da parte di tantissime persone, di tantissimi amici, di appassionati, è stato veramente notevole. Ovvio che è un'esperienza nuova, perché prima ero vicepresidente della squadra, quindi non ero così addentro come lo sono adesso, quindi i primi mesi, come tutte le cose, sono sempre quelli più difficili, però diciamo che ho la fortuna che in questo team che ormai è consolidato da tantissimi anni ci sono delle persone veramente di valore, a partire dal presidente onorario, nonché il presidente storico, che è Gianni Tebaldo, senza il quale non si potrebbe assolutamente fare, al dottor Cordioli, a Giuseppe Cusini, a Roberto Varalta, che è l'ex presidente, ma poi mi sono assolutamente attorniato anche di persone di fiducia, tra cui Andrea Menini che si occupa della parte della segreteria e per quanto riguarda invece l'aspetto tecnico, ecco, lì non c'è niente da insegnare a nessuno, perché insomma da molti anni a questa parte siamo assolutamente sempre sul podio a livello nazionale, a livello di team e quindi diciamo Mauro Bissoli, quest'anno coadivato da Bastianello, insomma sono veramente dei tecnici bravi, con sempre la supervisione del dottor Cordioli, che assolutamente non manca. Senti, la stagione sta per iniziare? Sì, la stagione è già iniziata dal punto di vista della preparazione, perché i ragazzi già nel mese di dicembre, durante le vacanze, hanno avuto modo di fare già un ritiro presso il nostro sponsor, l'hotel Due Cicolli, e a marzo però si entra nel vivo, loro sono già ad un buon punto, perché ci piace sempre iniziare bene la stagione, con un programma di allenamento che prevede anche una parte ovviamente in palestra, in modo da lavorare un po' su tutto il potenziamento dell'apparato muscolare dei ragazzi. Ecco, stiamo sfogliando un po' l'album delle foto che ci hai mandato, insomma parecchie volte atleti, ciclisti dell'AutoZai sono sul podio, quindi vuol dire che anche la preparazione è affinata a dei piccoli campioni nelle loro categorie. Beh, loro stanno vivendo un sogno, che è quello di correre, a mio avviso, in una delle squadre più organizzate a livello nazionale, che non ha, credo oggi, niente da invidiare alle squadre dei professionisti. La preparazione è mirata, qui vediamo Filippo Zana, che l'anno scorso è stato protagonista in Mondiali, la preparazione è molto mirata, è cambiata tantissimo rispetto agli anni in cui mi ricordo, correvo io, e proprio drasticamente è cambiata, ma hanno la possibilità di, appunto, essendo seguiti in maniera scrupolosa e importante, di togliersi veramente delle grandi soddisfazioni, e ogni anno, insomma, in nazionale uno o due ci richiedono sempre, quindi vuol dire che il vivaio, la preparazione, il metodo di allenamento è assolutamente sempre all'avanguardia. Ecco, stiamo vedendo la divisa ufficiale di questa stagione, senti, quanti sono i tesserati nella vostra società? Allora, beh, faccio una correzione, scusa Gigi, la divisa è quella lì, è quella dell'anno scorso, perché è la maglia del body dei campioni italiani, che l'anno scorso abbiamo vinto nel quartetto, la divisa ufficiale verrà presentata nei prossimi giorni, quindi è ancora top secret, anche perché quest'anno, oltre alla famiglia Vighini e alla famiglia Contri, quindi con Autozai e Contri che da anni ci affiancono, abbiamo anche il nuovo sponsor Omap, e quindi a giorni presenteremo la nuova divisa. Gli atleti sono dieci, sono dieci ragazzi, un bellissimo gruppo, devo dire, quest'anno, forse meglio ancora di quello dell'anno scorso, molto coesi tra di loro, molto concentrati, dei bravi ragazzi che si stanno impegnando non solo nella bicicletta, ma anche nella scuola. Eh sì, è importante, è importante conciliare la scuola con l'attività agonistica. Hai sottolineato l'importanza del direttore sportivo, Mauro Bissoli, a cui facciamo un applauso. Allora Mauro, una bella responsabilità, atleti giovani da far crescere, sia come uomini che come atleti. Sì, io mi divido nel ruolo di insegnante alla scuola la mattina, nel pomeriggio coltivo la passione di seguire i ragazzi. Lungo questo percorso ho ritrovato un amico che è Enrico Mantovanelli, perché correvamo assieme da giovani, e adesso condividiamo questa passione, mettiamo a frutto la nostra esperienza, lui nel suo campo e nel mio, però ecco, siamo contenti di quello che facciamo con questi ragazzi, perché, come ha detto prima Enrico, siamo prima di tutto un po' una scuola di vita. Cerchiamo di preparare questi ragazzi a quello che potrà essere. Nel contempo, li aiutiamo a coltivare un sogno che speriamo sia il più eroso possibile. Assolutamente, noi facciamo i complimenti. Senti, c'è Mattia Petrucci, campione italiano Crono Squadre ed ex campione italiano allievi. Facciamo magari Enrico parlare a nome di tutti. Allora facciamo un applauso a Mattia Petrucci. Buonasera, buonasera. Bene, sì. Ci tenevo a sottolineare il fatto che, oltre a me, oggi c'è un altro campione italiano, qua e parliamo di Nicola Graziato. Allora facciamo un alzare, dai, vicino. Non si era capito. Ecco, sì, mi faccio la portavoce questa sera per l'AutoZai. Per noi è veramente un piacere essere qua, è sempre un piacere venire a trovare i nostri amici dell'arena. Inoltre, ricordo che Alessio è anche il nostro personale giornalista, il quale settimanalmente ci tiene sempre in contatto per i nostri risultati. Enrico, come ha detto in precedenza, è da un mese circa il nostro direttore, il nostro presidente, giusto. Non vediamo l'ora di iniziare questa stagione al suo fianco, speriamo senza previsioni, soltanto di fare una buona stagione, anche perché, come in precedenza ha detto, siamo un bel gruppo, molto compatti. Speriamo in una buona crescita quest'anno. Noi ve lo auguriamo. Quanti anni avete? 17. Hanno tutti la stessa età, siete tutti della stessa classe. 16, 17, 18. Quindi classe, diciamo? 2000-2001. 2000-2001. Scusa Gigi, posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Ho avuto 17 anni prima di te. Ah, grazie! E qua è da dargli ragione, sì. Complimenti, complimenti ai ragazzi, ai ciclisti dell'AutoZai, con Triomap, in bocca al lupo per la stagione imminente e complimenti anche al vostro neopresidente, sicuramente lui è stato ciclista. Tra l'altro abbiamo anche delle foto di Enrico Mattovanelli, ciclista. Erano gli anni? 90. Possiamo misurarlo anche in chili, 30 chili fa. Eccolo qua, adesso stiamo scorrendo alcune foto. Per quanto hai corso, Enrico? Beh, ho iniziato a correre nel 90 e ho smesso nel 97. Questa è una bellissima volata dove abbiamo fatto primi, secondi e terzi alla 3-3 Bresciana. Ha vinto Federico Mutinelli, io sono arrivato secondo. Ho corso sette anni sostanzialmente. Prima praticavo il BMX e il cicloturismo, perché sai che a casa mia si parla solo di ciclismo. Il mio papà per 40 anni, presidente della loro Udace, e adesso Axi. e adesso ho la fortuna di avere anche il mio piccolo, Fabio, che ha nove anni. Ecco, questa invece è un'immagine più recente dello scorso anno che ero in Spagna, perché da quando ho smesso di fare l'assessore, fortunatamente, eccolo qui Fabio, ho ritrovato il tempo per andare in bicicletta. Però ho avuto la fortuna, in quegli anni che ho corso, tra l'altro nella Riboli, di coltivare anche un sogno, che è stato quello di indossare la maglia azzurra e di aver partecipato ai campionati del mondo in Australia nel 1993. A 16 anni andare in Australia un mese era veramente qualcosa di toccare il cielo con un dito. E tra l'altro un mondiale anche fortunato, perché l'abbiamo vinto con Giuseppe Palumbo. È importantissimo che un ex ciclista che conosce quindi il mondo della bicicletta, il mondo di questo sport e di questa disciplina, poi divenga presidente di una società e quindi sei molto vicino a tutte le problematiche dei ragazzi. Vi auguriamo veramente una stagione ricca di successi. Grazie a Derrico Mantovanelli e grazie all'AutoZai Contri Omap per una stagione davvero brillante.